Nell'armadio aveva nascosto dosi di eroina, cocaina e dashish già confezionate e pronte per essere cedute. Insomma, un vero e proprio spacciatore a domicilio che adesso è stato scoperto dai poliziotti. In manette è così finito un 64enne. Le indagini erano partite dopo che era stato notato uno strano andirivieni dal portone in cui abita l'uomo. Appostamenti e osservazioni mirate hanno poi permesso di appurare due cessioni di eroina e cocaina ad altrettanti soggetti segnalati poi come assuntori. Lo scorso martedì pomeriggio è così scattato il controllo nella sua abitazione quando gli agenti della squadra mobile della questura di Arezzo sono entrati nell'appartamento vicino a Porta San Laurentino. All'interno dell'abitazione i poliziotti hanno trovato alcune dosi di eroina, cocaina e dashish già confezionate e pronte per essere vendute, tutte ben nascoste in un cassetto dell'armadio della camera da letto. E' stato anche trovato e sequestrato materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. L'uomo con precedenti specifici è stato così arrestato per spaccio.